Grande successo nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino per la premiazione annuale organizzata dal CONI delle società, degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti sportivi che hanno onorato Napoli in Italia e nel mondo nel 2011. 86 di atleti premiati per 31 medaglie complessive e 7 titoli mondiali giovanili. Tanti nomi, dietro ognuno dei quali c'è una storia fatta di grandi sacrifici personali e di difficoltà organizzative per trovare i luoghi dove allenarsi. Dai campioni del mondo della pallannuoto, agli argenti del canottaggio, ai bronzi della motonautica per arrivare ai campioni degli sport parolimpici. La premiazione è stata anche l'occasione per due importanti annunci. Il primo sul rinnovo della convenzione per il comodato d'uso dello stadio Collana che sarà rimesso a nuovo con i capitali privati attraverso il project financing e il secondo sulla partenza a gennaio delle gare europee per la gestione degli impianti sportivi, ex legge 219 in prevalenza piscine. Il nostro impegno è rafforzare l'impiantistica sportiva per consentire a tutti gli atleti e tutti quelli che vogliono fare sport di avere impianti e strutture adeguate.